ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi come ogni venerdì tempo di promo tempo di team foot fantasy 2 sia per quanto riguarda heroes che giocatori normali tante carte veramente carucce altre che secondo me sono un po una trappola nascondono qualche insidia ma senza perdere troppo tempo andiamo subito a vedere chi è uscito questa sera partiamo da heroes se il primo giocatore che troviamo è park jisung può fare sia il cc che il cdc e rispetto alla carta marvel prende un più un tre in passaggio un più due in dribbling un più due in difesa e un più due in fisico tre skill quattro debole una carta che conosciamo benissimo spendibile in tutti i ruoli del centrocampo ma io la consiglio particolarmente se giocate con due centrocampisti con lui un po più tecnico un altro un po più difensivo stile yaya thure magari o anche zagaria insomma quel tipo di giocatore là perché se lo giocate a tre visto il suo 90 di lettura difensiva vi manda sull'esterno il centrocampista centrale se ha meno lettura difensiva lo sapete il classico problema del 4321 per cui quel 90 che un parametro veramente troppo alto paradossalmente nel centrocampo a tre finisce per penalizzarlo però tolto questo ovviamente un giocatore incredibile che mi sento di straconsigliare e che proveremo così come il mattatore alo waranda non ha bisogno di presentazioni più uno di tiro due di passaggio uno dribbling due difese due fisico che continuano a contribuire a quella che è l'ascesa di questo giocatore veramente infermabile quest'anno uno dei pochi che corre tantissimo si sente effettivamente quel 99 di velocità adesso vediamo se migliora anche leggermente la finalizzazione migliorano sicuramente i passaggi migliora anche leggermente il dribbling ma insomma questo costerà tantissimo visto prima 11 milioni per cui non è che lo scopriamo oggi il buon saed mentre molto interessante questa versione di natale che rispetto all 88 prende più due di velocità più uno di tiro più uno di passaggio due di dribbling uno di difesa e due di fisico per quanto riguarda questo giocatore è il classico per me attaccante da ps4 stile bayheader piccolo agile veloce che finalizza molto bene è una carta che se avete una serie a secondo me è un must have perché al momento di giocatori così forti in serie a soprattutto per ps4 ce ne sono veramente veramente pochi altra carta super è questa di dirk koeit nella versione 89 che rispetto all 88 prende dei più uno in velocità tiro e passaggio più due in dribbling in difesa un ulteriore più uno in fisico top anche se purtroppo non è lengthy questa questa versione qua 4 skill e 3 di piede debole però questo è un jolly per per eccellenza perché ve lo potete spendere tranquillamente a centrocampo lo potete mettere anche a fare la legna sull'esterno per portare palla su e magari fare qualche spizzata visto che un metro 83 anche lui lo andremo a provare ma già vi dico che è uno di quelli che mi piace di più così come mi piace veramente tanto questo jj okosha che prende più uno in velocità tiro passaggio e dribbling e più due fisico e difesa 5 skill 4 piede debole peccato il campionato turco per lui perché viene associato al fenerba cioè se non se non erro se avesse avuto ligand sarebbe stato molto meglio però vi devo dire che è una carta che mi manda al manicomio perché può fare tutti i ruoli d'attacco può fare il coc può fare l'esterno può fare la punta può fare benissimo tutto e ve lo stra 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 consiglio così come molto carino è anche questo rafa markets che rispetto all 89 prende più due in velocità e tiro più uno in passaggio dribbling difesa e fisico e lenghti ed è una carta che mi ha sorpreso peccato il campionato anche in questo caso perché è mls quindi lui va tre però non dà una mano agli altri è lenghti ed è stato tanto utilizzato l'89 durante la e champions league e ha figurato bene quindi se voi vi dovesse ritrovare questo markets tra le mani non abbiate paura di dargli un try perché secondo me il suo lo sa e fa il discreto lavoro che deve fare come difensore centrale fortissimo morientes che rispetto al 90 prende più uno velocità più uno di tiro più due passaggi uno dribbling due difese uno fisico è un 4 4 è lenghti e sarà lenghti anche dopo gli upgrade carta veramente top per chi non ha fatto il 90 magari l'aveva rimpianto questo qui è un giocatore secondo me da provare perché stile a land toti tra virgolette ovviamente corre molto meno però lo stile di corso lo aiuta tanto su next quindi classico attaccante da next è per me è straconsigliato perché è un è un 4 4 andiamo su papen jampier papen 3 4 peccato questo 3 di skill che secondo me lo mette un po fuori dai giochi rispetto alla carta 90 prende dei più uno in velocità tiro passaggio dribbling più due di difesa e più due di fisico mentre per quanto riguarda velocità accelerazione insomma siamo su buoni parametri un gran tiro però ripeto un attaccante con 3 di skill secondo me a questo punto del gioco non si può avere quindi skip 20 che è un altro giocatore che insomma mls 44 ma lascia un po il tempo che trova questo wimmer è un ala destra 44 è explosive insomma austriaco del del fosburg penso che farete una una gran fatica a metterlo eventualmente in squadra juan foit invece caruccio stile aurauco una una discreta velocità skill piede debole insomma un difensore che se vi ritrovate tra le mani potete sicuramente provare e anche versatile visto che comunque potete anche schierarlo magari da da mediano a partita in corso o anche a match che deve iniziare perché ce l'ha da terzino lo sconsiglio perché non è super veloce sto toprak grosso skip anche per lui insomma difensore turco dell'antalia spor lasciamo perdere carta molto carina invece questa qua di emre canna anche da difensore perché a 3 skill 4 piede debole è lenghti e ci rimarrà anche dopo gli upgrade gulit gang tutte le stats sopra l'attanta una carta che secondo me merita l'attenzione anche perché linka tutta una serie di giocatori come bellingham eccetera sto mitoma pure non è male 4 skill peccato il 3 di piede debole però come esterno visto che di esterni puri ne mancano se vi serve uno che corre 93 di velocità questo il suo lo fa così come caruccio pure sto de marcos che da terzino lì in liga non è che ce ne sono tanti c'è iorente che però è più centrocampista e costa un fottio questo costa due spicci e non è per niente male così come non mi sogno di immaginare cosa diventerà questo pamecano con gli upgrade un difensore totale questo ve lo dico probabilmente scavallerà e andrà anche in qualche top 3 4 5 di difensori perché c'è un body type della madonna e lenghti statistiche difensive allucinanti rispetto all'87 che l'ultimo uscito prende dei più 1 e più 3 di fisico che gli permette di arrivare a 96 di forza 90 di aggressività carta veramente incredibile così come anche molto interessante questo benaserco più 1 di velocità 3 tiro 1 passaggio 1 dribbling difesa e fisico è un 4 3 ed è un jolly per quanto riguarda il centrocampo di serie a perché può fare benissimo entrambe le fasi magari se lo mettete con uno più difensivo potete giocarlo anche a due altrimenti mezzala perfetto di ogoyota invece prima versione speciale prende più 4 in velocità in tiro 5 in passaggio 4 in dribbling difesa e 5 di fisico è explosive 5 di piede debole 4 di skill ed è una sorta di bay header quindi per me classico attaccante da ps4 molto molto interessante piccolo agile e versatile so sabbiz rbc il nostro human safari 4 4 con tutti i centrocampisti che ci sono onestamente lo skipperei mentre su hazard abbiamo la stessa considerazione di yota ovvero buoni upgrade lodevoli 4 4 però un body type un po particolare è paradossalmente il classico giocatore da ps4 piccolo agilotto ma neanche così tanto perché questo body type ripeto che c'ha unico con 76 di forza un po lo appesantisce chiudiamo con ruben diaz che secondo me è il più forte in assoluto dei difensori usciti del city e parlo di stones e la port rispetto alla carta base perché prima versione speciale prende più 19 di velocità 2 di tiro 8 passaggio 8 dribbling 3 difese 3 fisico giocatore veramente veramente interessante che considerato il manchester city potrebbe anche prendere tutti i bonus compresa l'imbattibilità e diventare veramente uno dei migliori dc in circolazione menzione a parte invece per kvaraskelia potm che onestamente io vi consiglio di sbloccare soprattutto se siete fan perché tanto per 40k è un 86 ovviamente è più scarso del 90 un'occasione un po persa perché mi aspettavo che fosse 5 skill visto che potmo quest'anno possono ricevere l'upgrade della quinta skill e anche per differenziarlo dal footer star così non è stato però questa è una carta comunque interessante ragazzi per questo video è tutto a me non resta altro che augurarvi una buona serata saluto nella vostra liberoschi nei commenti vi ricordo sempre di lasciarmi quali sono le vostre impressioni su questi giocatori e quali vorreste vedere provati sul canale vi ricordo che sono live tutte le mattine sulla piattaforma viola stato buono e a presto ciao